un saluto dai ma paparella ben ritrovati sul canale youtube di cellulare magazine abbiamo qui con noi oppo reno 12 e oppo reno 12 pro uno smartphone che in realtà l'abbiamo già provato anzi vi invito ad andare a cercare la recensione completa qui sul nostro canale youtube sono due telefoni che sono stati lanciati recentemente che naturalmente appartengono alla stessa famiglia alla famiglia reno 12 ma che hanno alcune differenze che determinano anche un prezzo a favore ovviamente di reno 12 leggermente più più basso ma volevo capire se le caratteristiche che abbiamo a disposizione sull'uno o sull'altro modello sono sufficienti per determinare una scelta ponderata in definitiva a capire se i circa 150 euro di differenza tra un telefono e l'altro danno un senso anche alla maggiore efficienza complessiva di reno 12 però partiamo proprio dai prezzi mentre vi sto parlando sul sito di oppo il reno 12 pro viene venduto a 599 euro che diventano invece invece 449 euro nel caso della versione reno 12 tra le altre cose vi segnalo la presenza di un interessante bundle che prevede una serie di accessori anche discretamente costosi che vengono praticamente regalati insieme ai 449 euro necessari per l'acquisto di oppo reno 12 come potete vedere i telefoni sono praticamente estetici e uguali dal punto di vista dell'estetica anche se in realtà c'è qualche piccolo dettaglio che merita di essere menzionato come ad esempio un profilo decisamente più piatto per ciò che riguarda reno 12 pro è leggermente più arrotondato per la versione 12 abbiamo uno spessore appena appena inferiore per la versione 12 anche due o tre grammi in meno di peso veramente qualcosa di realmente impercettibile nell'utilizzo quotidiano l'estetica è molto gradevole le finiture sono molto molto piacevole per entrambi sblocco in questo caso il mio reno reno 12 e vi segnalo la presenza di un display da 6,7 pollici che è praticamente identico a ciò che troviamo su reno su reno 12 pro anzi un attimo qui l'esposizione perché siamo decisamente sottoesposti vi dicevamo lo stesso display da 6,7 pollici con 1080 x 2412 pixel frequenza aggiornamento a 120 hertz e un picco di luminosità da 1.200 nits che cosa cambia nella parte frontale le fotocamere che poi a dirla in maniera molto semplice è solo le fotocamere a rappresentare le reali differenze tra questi due telefoni ma rimanendo sulla fotocamera frontale abbiamo una 50 megapixel e una 32 megapixel per ciò che riguarda reno 12 entrambi però hanno una cosa secondo me davvero molto utile cioè l'autofocus anche in ambito video questo verrà molto utile soprattutto per i content creator che avranno la possibilità di avere di video che hanno un corretto punto di messa a fuoco in modalità continua quando ad esempio stiamo facendo vedere un prodotto è una caratteristica che troviamo su entrambi i telefoni che non è anche facilissimo trovare sui telefoni di questa fascia quindi è qualcosa secondo me di estremamente utile sì la 50 megapixel di reno 11 pro funziona leggermente meglio da un punto di vista prestazionale ma c'è un'utilità complessiva davvero valida in entrambi i casi condividono i due telefoni lo stesso lo stesso sistema sistema operativo android android 14 scusate che su cui lavora la color s 14.1 e anche il reparto hardware con il sistema on chip di mediatek il 7300 energy che è un processore con processo produttivo a 4 nanometri che è customizzato per l'esperienza oppo quindi è un processore di fascia medio alta che devo dire funziona molto bene l'abbiamo già visto anche appunto sul sulla versione pro di questo telefono andiamo nella parte posteriore dove vi segnalo che abbiamo in questo caso batterie identiche abbiamo per entrambi batterie da 5000 mAh con possibilità di ricarica fino a 80 watt non cambia niente per i due telefoni direi che dal punto di vista dell'autonomia confermano delle ottime prestazioni sono dei telefoni che riescono a traguardare in maniera molto agevole un'intera giornata di utilizzo ma in realtà si riesce ad andare anche oltre con un utilizzo assolutamente normale dove troviamo altre differenze le troviamo nel reparto della fotocamera principale perché nel caso della versione pro quindi della versione più evoluta abbiamo una fotocamera principale da 50 megapixel una ultra wide una zoom scusate da 50 megapixel e poi abbiamo anche uno scusate ho sbagliato sto leggendo sto leggendo male abbiamo una 8 megapixel per la ultra wide e due elementi da 50 megapixel sia per la 1 per quindi con 26 mm di lunghezza focale corrispondente sia per la 47 mm quindi per la 2 per che ha una lente f 2.0 per ciò che riguarda a reno 12 invece perdiamo lo zoom abbiamo praticamente sempre la 8 megapixel f 2.2 per la 16 mm quindi per la ultra wide e la 50 megapixel per la principale c'è poi un terzo elemento che però è deputato alla gestione della macro fotografia quindi non c'è la 2 per che cosa cambia cambia proprio l'assenza della 2 per tra i due telefoni perché in ambito fotografico riusciamo comunque a portare a casa dei buoni scatti queste sono delle foto che ho realizzato 3 o 4 settimane fa in brevissimo weekend che mi sono concesso con la mia famiglia al mare il telefono porta a casa certamente delle buone fotografie ovviamente quando ci si va a spingere con lo zoom in questo caso nel caso della versione pro abbiamo una resa migliore perché lo zoom ottico per c'è un sensore con ben 50 megapixel quindi la resa complessiva sicuramente migliore invece con la versione con la versione 12 normale è chiaro che andiamo a perdere immediatamente un pochettino di efficienza quando si utilizza lo zoom digitale come potete vedere subentra un effetto acquarello piuttosto visibile direi però una buona resa per ciò che riguarda la fotocamera frontale anche in ambito ritratto e nel complesso abbiamo a che fare con una modalità di scatto che regala delle prestazioni complessive di assoluto interesse anche quando si scatta in condizioni di luce non perfette nei fatti ribadisco usiamo come riferimento anche la recensione del del reno 12 pro le differenze le abbiamo per la presenza o per l'assenza dell'elemento ottico 2 perché ovviamente fa un pochino di differenza guardate come si comporta piuttosto bene anche in questa modalità di scatto quindi nella ritrattistica sono stati ben scantonati gli elementi fuori fuoco quindi in secondo piano buona gestione della macro buona la resa dei colori del dettaglio e un po come avevo detto anche nella recensione del reno 12 pro c'è sicuramente una prestazione decisamente migliore quando si utilizza la fotocamera principale rispetto alla ultra wide che soffre abbastanza tipicamente un po in tutti i telefoni di un minore livello di dettaglio e spesso anche di una precisione dell'esposizione che risulta meno soddisfacente nel suo complesso comunque la resa è decisamente interessante anche utilizzando poi l'intelligenza artificiale come vi dicevo queste sono le differenze che potete trovare tra tra i due tra i due telefoni differenze che determinano poi un listino come dicevo prima che cambia di circa 150 euro a che cosa rinunciate rinunciate una fotocamera frontale con una risoluzione che diventa leggermente più bassa per la versione reno 12 ma che conserva secondo me delle caratteristiche strutturali molto importanti come ad esempio la possibilità di utilizzare la messa a fuoco continua anche in modalità video e poi in realtà rinunciate all'elemento 2x ottico che trovate invece nella versione 12 pro poi c'è questa differenza anche dal punto di vista della costruzione con il bordo praticamente piatto per la versione pro che invece è leggermente curvo ma un pochettino più sottile nella versione 12 in questo caso stiamo parlando assolutamente di gusti personali quindi uno deve scegliere quale piace di più anche se credetemi nel osservarli si fa quasi fatica a percepire le reali differenze tra i due prodotti la realtà che questi due telefoni sono due telefoni secondo me bene riusciti che sono in grado di soddisfare in entrambi i casi le esigenze del consumatore un bel livello di costruzione un'estetica che richiama secondo me qualche soluzione di qualche anno fa ma che è stata leggermente modernizzata con queste fotocamere a semaforo mi piace molto la resa dei colori tendono a non sporcarsi con troppo facilità si lasciano maneggiare facilmente perché siamo a un peso intorno ai 180 grammi nella versione normale addirittura a 177 grammi c'è un buon processore c'è un bel sistema di ricarica ci sono buoni display ci sono fotocamere divertenti c'è un software molto potente vi ricordo anche la presenza nel proprio tramite l'intelligenza artificiale della possibilità di eseguire delle operazioni di fotoritocco veramente divertenti le ritrovate proprio nella recensione di reno 12 pro che ci permettono ad esempio di utilizzare il nostro volto e di attualizzarlo magari di ringiovanirci con alcune foto di invecchiarci insomma di vestire dei panni diversi e tutto diventa estremamente divertente mi fermo qui per questa questo brevissimo versus tra oppo reno 12 e oppo reno 12 pro e vi rimando le prossime recensioni un saluto da ivan